La Calabria è la più grande riserva naturale dell'Europa e da questa sua bellezza, da questa sua naturalità deve ovviamente derivare uno sviluppo, uno sviluppo che è ricchezza, che è sopravvivenza, che è dignità, che è lavoro e lo faremo insieme ai calabresi, è la cosa più bella per me. Stiamo lavorando insieme agliato, insieme ai sindaci, insieme ai cittadini per realizzarli nel minor tempo possibile, le difficoltà ci servono per migliorare, certo non ci arrenderemo, stiamo rivedendo l'impiantistica ovviamente alla luce delle migliori tecnologie che esistono nell'Unione Europea, queste nuove tecnologie peraltro vengono anche sostenute e finanziate dal Ministero dell'Ambiente con cui siamo in contatto e faremo una grande Calabria, una bella Calabria. Come vogliono i calabresi, senza logiche di dominio, senza assetti verticali, in una comunità che è la nostra bandiera, che è il nostro orgoglio e questo è un esempio importante da praticare in una maniera pura, senza ideologie, senza preconcetti, per il bene comune.